Ragazzi, questo è un episodio davvero speciale perché finalmente si potrà conoscere il passato di Sans. Ci ho messo davvero tanto a fare questo episodio, spero che vi piaccia e vi lascio il video. Buona visione. Ok, piano piano, ok. Bella quella sera, sempre bello. Ok, fresco! Fresco! Allora, vediamo. Ok, hai preparato qualcosa? Uh! Ah, sì. Sarebbe? Che dici? E' una torta di chicocche rosse. Sembra quasi buona, peccato che io quelle cose le odio. A proposito, ne ho prese altri per quello là, quindi... Speriamo in bene. Ok, provo a svegliarlo, sembra che stia dormendo bene. Fa sempre dei versi strani quando dorme, però vabbè. Papyrus! Papyrus! Pap! Fra! No, no, non voglio la pasta. Papyrus! Più porpette, più porpette. C'è una torta per te! Papyrus! Non serve da bere, non serve da bere. Aspetta, ho sentito torta. Sì! Guarda! Era buona. Ma se l'è divorata. Eh, ma che ci mangiamo? Vabbè, dovrei avere del Magikarp avanzato da questo pomeriggio, quindi... No, no, no! Oh, e dai, su! No, no, ha senso, non ci pazzano per queste cose che tu fai. Eh, sono buonissimi, guarda. Sì, sì, sì. Oh, ti ho lanciato in fac... Ah! Ah! È la mia! No! Ok, ti ho lanciato in faccia per sbagliare la mia sabbia. Ok. Mm, gustoso. Ah, saziante. Comunque. Eh, sera, io credo di andare a dormire, raga. Non... Ah, ah, sfigati. Io fino a mo' dormito, quindi... Eh, sì, e indovina un po' che ti ha cercato gli ingredienti per fare quella torta. Neanche un grazie, fra? No, perché il grande papyrus, sì, grazie, sì, sì. Eh, dai, fratellone, ti voglio bene, fatti abbracciare. Anche tu, grazie, grazie, grazie. Ok. Quindi il grande papyrus, essendo che ha dormito fino a mo' con un bellissimo scheletro, si va a fare una bella passeggiata. Ciao, ciao! Ah! Ok. Eh, tenda o tronco? Eh, vabbè, mi prendo il tronco stavolta. Eh, vai! Ma, prima, senso... Cioè, tu sei uno scheletro, giusto? Sì. Eh, cioè, come... Nel senso, come sei nato, chi sono i tuoi genitori? I miei genitori? Mmh. Eh... Eh... Vabbè... Cioè... Eh... Vabbè... 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 papà dimmi figliolo come va con il tuo fratellino? tutto bene? stai studiando per i poteri? si, ci sto ancora lavorando anche se ormai credo di aver capito come funzionano vedi, umani e pokemon non sono poi così tanto diversi secondo la genesi derivano tutti dallo stesso ramo mentre noi mostri siamo solamente una via di mezzo tra i due quindi in fondo sono anche un pokemon? diciamo di sì anche se non è esattamente la stessa cosa siamo molto connessi ma io... capirei quando sarà il momento tu ricordati sempre di rispettare gli altri va bene papà bravo figliolo speriamo che va di bene la faccenda papà? papà? Gaster Gaster dove sei? ho sentito un rumore oddio che cos'è questa roba? no papà papà? papà? Gaster Gaster ehi, senti? tutto ok? se non vuoi parlarne tranquillo preferisco non parlarne ok prendo io il tronco scusami però no vai vai tranquillo grazie 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 grazie